Un pezzo dell'aereo è caduto qui. La mia attrezzatura è in quel carico. Devo tirarlo giù. Forse posso trovare uno scarto appuntito tra quei rottami. Mi serve qualcosa per tirarlo giù. Non posso aprirla senza uno strumento adatto. Forse è un rottame preso da relicro. Accidenti. Forse è un rottame preso. Forse è un rottame preso. serve qualcosa per affilarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.